L'aveva annunciato sin da subito dopo la perquisizione e il relativo decreto ed oggi Luca Mendola, presidente di Multiservizi, ha formalizzato le sue dimissioni inviando una PEC al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Mentre le indagini della procura retina sul presunto caso di corruzione vanno avanti, i legali dei tre indagati eccellenti, Luca Mendola, Roberto Bardelli e Lorenzo Roggi, stanno infatti facendo le loro prime valutazioni. A Mendola, assistito dall'avvocato Marco Manneschi, ha così rimesso il suo mandato. Il prossimo passo sarà invece quello di chiedere un colloquio con il PM Andrea Claudiani per chiarire la sua posizione. Il consigliere comunale Roberto Bardelli invece, attraverso il suo avvocato Roberto Alboni, ha depositato ricorso al riesame contro il sequestro di telefoni, computer e pennine, una mossa che gli consentirà così di avere accesso alle carte del pubblico ministero. Una preziosa discovery per avere un quadro più completo dell'inchiesta e della propria posizione. Per quanto riguarda Lorenzo Roggi, difeso dall'avvocato Piero Melani Graverini, il Partito Democratico invece ne ha chiesto le dimissioni da presidente di Arezzo Casa. Le indagini sul presunto caso di corruzione avevano preso avvio da una costola dell'inchiesta Coingas. La procura di Arezzo ipotizza infatti una promessa di utilità, l'aiuto per un prestito da 200.000 euro che nel 2016 Amendola avrebbe fatto a Bardelli in cambio del suo sostegno per la nomina in multiservizi. Una vicenda a cui contorni restano ancora tutti da chiarire, emersa da due file audio registrati in modo occulto da Sergio Saderini, ex presidente Coingas, nei quali viene captato anche il sindaco di Arezzo Ghinelli, al quale gli stessi Bardelli e Roggi parlano dell'accordo non rispettato.